Torino Jango Torino Jango Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video Come probabilmente sapete se mi seguite su Instagram Se non lo fate andatemi a seguire Sono stata circa 3 settimane negli Stati Uniti Perché avevo vinto un concorso per accompagnare degli exchange students a New York Se non avete ancora visto il video che ho fatto a New York Ve lo lascio nelle schede che saranno o qua o di qua Non so da che parte saranno Dopodiché sono invece andata a trovare la mia vecchia host family in Texas Stando 3 settimane là ovviamente ho fatto un po' di shopping Io ho comprato qualche cosa anche se non sono tante Perché ho preferito comprare cibo piuttosto che vestiti Perciò ho deciso di mostrarvi pure i vestiti che mi hanno mandato Romwechie Inside Visto che ieri sono tornata a casa e mi sono trovata tutti questi vestiti a casa E dovevo trovare un video in cui mostrarveli Insomma perciò penso che questo sia quello che ho dato Visto che è comunque un video haul E ho poche cose da mostrarvi dell'America Anche se si intitolerà cosa ho comprato in America Partiamo quindi subito dagli acquisti americani Quando ero a New York come avrete visto nel video L'ultimo giorno CIAI ci ha lasciato liberi in un mall In un... mall E ha dato 20 dollari a tutti i ragazzi e anche a me per fare cena 20 dollari per fare cena in America sono tantissimi Perciò mi erano rimasti ancora circa 10 dollari dopo aver fatto cena E siccome ero in un mall per cosa li avrei potuti spendere se non vestiti Sono andata subito dritta alla Zara e ho trovato subito quello che faceva per me Sto parlando di questi jeans che costavano proprio precisamente 10 dollari Perché erano in saldo quindi perciò insomma perfetto Hanno queste strisce argentate ai lati che adoro Mentre in fondo sono un po' leggermente sfrangiati Questi insomma appena li ho visti Ho detto perfetti Ho trovato come spendere i miei 10 dollari Dopodiché il primo giorno che ero in Texas abbiamo cercato di fare qualcosa Con Lexi siamo usciti e siamo andati al mall di nuovo Però questa volta ad Amarillo Un pochino più piccolo rispetto a quello che c'era a New York Però siamo entrate da Forever 21 E c'erano i choker che venivano un dollaro a testa Quindi sono partita che avevo tipo 10 choker in mano Le volevo comprare tutti Poi mi sono data una regolata e ne ho comprate solamente 3 Il primo è un po' più da sera diciamo Il secondo choker che ho preso è questo Anche questo è un po' più da sera rispetto a un normale choker Come vedete è composto da una catena dorata e da un semplice filo nero Mentre il terzo lo potrei indossare anche di giorno È semplicemente un insieme di cerchi argentati Ho trovato anche degli orecchini che mi piacevano particolarmente Perciò ho preso pure quelli Sto parlando di questi Adesso non fate caso agli intrusi Perché ho sostituito gli orecchini Sono tutti dei piccoli cerchietti Partiamo dal nero Questo non so che colore è Tipo un misto tra nero e argentato Poi ci sarebbero quelli dorati Però li stavo indossando e quindi non ci sono in questo momento Poi c'erano quelli oro rosa E quelli argentati Dopodiché siamo andati con la mia usciame in Oklahoma Per visitare Oklahoma City Il secondo giorno siamo stati in questo enorme mall Outlet mall anzi Ed era come un outlet da noi Sono entrata nel negozio Vans E avevano le Vans a 20-30 dollari E in più era prendi uno E hai lo sconto del 50% su un secondo paio E quindi era troppo un affare per perderselo E quindi l'ho comprata in tre paia Il primo paio che ho comprato sono queste che Adoro Non c'è nient'altro da dire Come secondo paio ho preso queste Che sono un po' più particolari Sul dietro hanno questa cerniera Perciò non mi serve nemmeno slegarle e legarle Le posso indossare semplicemente a pendo E chiudendo la cerniera E questa cosa è fantastica Poi siccome anche a mio fratello piacciono le Vans Ho preso un paio pure per lui Sono stata tipo 10 minuti a fare FaceTime con lui In il negozio Vans Perché doveva scegliere le sue Vans E alla fine ha scelto queste qua Poi sempre in quel outlet mall Sono andata da Forever 21 E mi sono messa a guardare nel Come si chiamano? In quei porta abiti In cui mischiano le ultime cose rimaste E quindi ogni capo viene tipo 2-3 dollari O cose del genere E ho comprato Questo top nero Che è davvero semplicissimo Però fanno sempre comodo Questo mi pare L'ho pagato 2 dollari Meglio di così Non potete mandarmi Ho comprato quest'altro top Che ho pagato tipo 3 dollari Scusate se è tutto stroficciato Perché era dentro la valigia E quindi Capitemi Mentre l'ultima cosa Che ho preso da Forever 21 Questi li ho pagati 5 dollari Sono questi pantaloncini Quest'estate sono rimasta Straccorto di pantaloncini Perché mi stavano tutti enormi Quelli dell'anno scorso Perciò ne avevo assolutamente bisogno E anche se costavano un po' di più Delle altre cose Le ho comprate lo stesso Perché insomma 5 dollari Non era assolutamente niente Poi ci sono due cose Che mi ha regato la mia house mamma Perché erano cose che lei aveva comprato Perché non aveva mai indossato Avete presente quando compriamo quelle cose E poi dopo non le mettiamo E sto parlando di questo vestito Che adesso non si vedrà Perciò lo vedrete addosso È un vestito da pillato È di Forever 21 Cercavo un vestito di questo tipo E quindi insomma sono contenta Che me l'abbia regalato E il secondo vestito invece è questo Che ha ancora il cartellino Perché non l'ho mai indossato È di un negozio Che hanno solamente in America Si chiama Francescas E anche questo vestito Secondo me è molto carino Molto bontone diciamo Passiamo quindi alle cose di Shein E di Romwe Iniziamo da Romwe La prima cosa che mi hanno spedito Sono questi pantaloncini Che ho preso Perché come avevo detto Mi mancavano pantaloncini Ne avevo preso già un paio simile Per una mia amica E mi erano piaciuti come mi stavano addosso Perciò ne ho preso un paio pure per me Di questi ho preso la M Perché ormai ho imparato Quei di pantaloni Su questi siti devo prendere la M Poi ho preso un altro paio di pantaloncini E quindi anche questi Come immaginerete sono M Verde militare Perché appunto Non avendo pantaloncini Ovviamente non avevo nemmeno Pantaloncini di questo colore E fanno sempre comodo Pantaloncini di questo colore Come di qualsiasi altro colore Ho preso poi un altro paio di pantaloncini Ancora Perché appunto Mi servivano assolutamente Dei pantaloncini Vi giuro Ne avevo tipo Tre paia rimasti Dei quali Mi piacevano solamente Tipo due paia Seria Questi Li ho visti A tantissime persone Non proprio di Romwe Ma magari di altre marche Sono molto particolari Perché hanno questo Incrocio qua Sui lati Che finisce con un bel fiocco Questa stringa Si può mettere in qualunque modo Io l'ho visto così E quindi l'ho messo così Però insomma Lo potete mettere Come pare a voi E tra l'altro Questi sono la M E sono un po' Più stretti Rispetto agli altri Poi ho preso Questo body Sono quei motivi Insomma molto tumblr L'unica cosa di questo top È che è un po' Sfilacciato Se riuscite a vedere Qua Che tra l'altro Sotto Ha tipo Un doppio strato Questo bianco Che vedete qua E secondo me Doveva stare fermo Bloccato Cioè cuscito In realtà Si è tipo scuscito E qua ci sono tutti i fili All'aria Quindi questo insomma Mi ha un po' Deluso anche perché Mi sta un pochino largo Sotto le ascelle Sempre Romwe Mi ha mandato questo vestito Del quale sono invece Molto ma molto contenta E come tutti i vestiti Non ve li posso mostrare Da così vicino Perciò lo vedrete indossato E l'ultima cosa Che invece mi ha mandato Romwe Proprio mi ha fatto Assolutamente schifo Non era indossata Dalla modella Era semplicemente Una foto Della maglietta Sdraiata per terra E quindi Ho rischiato molto Diciamo Sembrerà al contrario Adesso ma In realtà Questo è il davanti Ovvero Questo qui aperto Completamente È il davanti Si lega solamente Da questi due nastri qua E quindi Il davanti È completamente Aperto Shea Inside Invece mi ha inviato Questo golf Che adoro tantissimo Penso che la prossima volta Ne prenderò uno uguale Di un altro colore Perché ne hanno Di tantissimi colori Mi piacciono particolarmente Le maniche Anche se sono leggermente corte Però Ci sono fatte apposta Così Anche perché Questo era one size Non c'era la taglia Poi ho preso Un set di magliette Cioè Due magliette Semplicissime Una bianca Ed una nera Uguale Identica A quella bianca Questo l'ho fatto Perché fanno sempre Stracomodo Soprattutto d'estate Magliette semplicissime Normali E non so perché Nel set non c'era scritto Che sarebbero venuti Con dei pantaloncini Se non mi hanno sbagliato A mitte C'erano anche dei pantaloncini Ho deciso di usarli Come pigiama Anche perché Non posso andare al giro Con questi cosi L'ultima cosa Che mi è stata inviata Da Shea Inside Sono invece questi pantaloni Questi Non mi fanno impazzire Non lo so Pensavo sarebbero stati Un po' meglio Non sono nemmeno bruttice Mi piace poco il materiale Essere sincera Sono un po' troppo leggerini E un po' il motivo Così è un po' troppo Appariscente Diciamo Questo era tutto Per questo video Spero che Le cose che vi ho mostrato Vi siano piaciute Fatemi sapere Quali Qual è stata la vostra cosa preferita Non lo so Scrivetemi un po' Nei commenti qualcosa Parliamo un po' Attiviamo un po' La sezione commenti Dei miei video Se non l'avete ancora fatto Vi consiglio nuovamente Sia di seguirmi su Instagram Che di andare a vedere I miei video di New York E molto presto Usciranno anche Gli altri video americani Che ho fatto Sia sul mio canale Sia sul canale Di Yoabroad Che se ancora non seguite Andate a seguire Detto questo Vi saluto Vi consiglio di iscrivervi Al mio canale Per non perdervi Nessuno dei video Che vi ho promesso E vi do l'appuntamento Appunto Al prossimo Non so quando sarà Ma molto presto Spero E vi do l'appuntamento E vi do l'appuntamento E vi do l'appuntamento E vi do l'appuntamento